buonasera e benvenuti io sono roberto dell'elis direttore di atel fondazione che è il circuito multidisciplinare dell'emilia romagna questo che facciamo è il terzo degli incontri online del ciclo che abbiamo intitolato racconti fuori scena e che un formato progettuale che è nato nel 2022 con l'obiettivo di approfondire insieme agli artisti che poi sono in scena nei nostri teatri il rapporto che si sta ora in sala tra attore e spettatore oggi con noi è cristiana cristiana morganti una delle danzatrici storiche del tasti a tv per tal di piena bausch cristiana da alcuni anni e anche coreografa e autrice di alcuni spettacoli in particolare ha prodotto tre assoli che l'hanno fatta conoscere al pubblico italiano non che cristiana non sia italianissima ma che la sua carriera si è svolta principalmente in germania a wupert in particolare dove tuttora vive vi chiederete come mai abbiamo scelto una danzatrice in un progetto che parla di narrazione beh io voglio dire che cristiana con cui mi permetto una particolare confidenza data la nostra amicizia è una danzatrice che parla molto e questo è sicuramente un'anomalia il suo primo a solo moving with pina è nato con una conferenza spettacolo ed è diventato sempre più spettacolare via via che che lei lo ha fatto dando vita a una vera e propria cifra stilistica in cui la parola ha assunto un ruolo molto importante io ricordo che cristiana sarà possibile incontrarla dal vivo nel nostro circuito in due teatri al teatro del popolo di concordia il 9 marzo e successivamente al teatro maniani di fidenza il 12 marzo con behind the light la sua ultima creazione antervi a intervistarla nella califano una giovane studiosa di teatro a cui abbiamo affidato tutto questo ciclo di incontri sin dalla prima edizione ricordo che tutti gli appuntamenti saranno trasmessi sul canale youtube di ater su facebook e rimarranno a disposizione sulla piattaforma teatri nella rete per ogni informazione comunque potete visitare il sito ater.emr.it io vi ringrazio per attenzione lascio la parola nella califano e cristiana morganti buona serata a tutti grazie grazie roberto dell'ellis benvenuti a tutti e a tutte e con grande piacere do il benvenuto a un ospite davvero speciale che ci dà la possibilità di aprire questo ciclo di incontri al linguaggio della danza e a quello che potremmo definire il via in monologo danzato che è cristiana morganti benvenuta cristiana grazie per essere qui con noi oggi grazie a voi cristiana morganti è una straordinaria danzatrice che durante il suo lungo percorso di studi in danza classica all'accademia nazionale di roma capisce di non essere perfettamente a suo agio in quella dimensione di aver bisogno di qualcosa di diverso e inizia la sua esplorazione nel mondo della danza attraverso una serie di esperienze che poi la portano alla scoperta del lavoro di pina bausch e come spesso accade è l'esperienza di spettatore e di spettatrice che ad essere illuminante e infatti cristiana resta folgorata dallo spettacolo victor del 1986 della compagnia di pina bausch e decide che quella sarà la sua strada e pochi anni dopo è già ballerina solista al pina bausch dance theater wuppertal e danza nella maggior parte degli spettacoli del repertorio e in molte nuove creazioni cristiana non è solo danzatrice ma come lei stessa dice si sente anche attrice e non a caso amplia la sua formazione studiando tra gli altri con genio barba in danimarca colori in teatret e nel suo bagaglio quindi non c'è solo pina bausch e questo a modo di dimostrarlo in maniera ancora più evidente quando desiderosa di continuare la sua esplorazione sceglie coraggiosamente rilasciare dopo 22 anni la compagnia di uppertal e di trovare il suo universo iniziando un percorso personalissimo che la vede in scena con diversi assoli in cui la danza e il racconto si fondono tenuti insieme dalla sua immancabile ironia che alleggerisce tematiche ed esperienze personali permettendole di di guardarle dall'alto e anche di trasmetterle allo spettatore che riesce così a a immedesimarsi a lasciarsi rapire da una visione che sempre caratterizzata da una commissione di linguaggi che si tengono in perfetto equilibrio tra di loro e cristiana inoltre riesce a creare un legame molto forte con gli spettatori che alla fine dello spettacolo come lei stessa come qualcuno le ha detto hanno conosciuto un essere umano ecco quindi cristiana io ti lascio subito la parola dopo questa brevissima presentazione perché tu possa parlarci meglio dei tuoi inizi e nel passaggio da interprete ad autrice sebbene come ci racconterai meglio anche tu anche nel corso dell'esperienza al tantea per uppertal la creazione era spesso collettiva e vi si chiedeva di sviluppare autonomamente dei temi allora sì l'inizio vuol dire proprio gli inizi e ho iniziato il mio percorso è stato all'epoca inedito abbastanza non è adesso è diventato più comune il fatto di passare dalla danza classica alla danza contemporanea all'epoca io parlo degli anni ottanta insomma erano più due mondi molto separati che quasi che non comunicavano tra di loro e io ho cominciato ho iniziato a danzare a cinque anni nella scuola privata del quartiere poi a dieci anni sono entrata all'accademia nazionale di danza di roma sono nata e cresciuta a roma e lì ho fatto il mio percorso la mia via crucis di otto anni all'accademia nazionale di danza e per diventare una ballerina classica per entrare in un corpo di ballo eh di una insomma una compagnia di di danza classica durante questo percorso però mi sono rapidamente resa conto eh non solo che non non avevo diciamo sì che sarei stata una buona ballerina di fila ma che certo non non sarei potuta diventare un etual diciamo proprio per le 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 mie caratteristiche fisiche eh però eh mi sono anche resa conto che non mi interessa c'era qualcosa che non funzionava con me nel linguaggio della danza che non era quello il modo in cui sentivo di poter esprimere tutto quello che che avevo dentro e quindi era era cercavo di sfuggire quindi già a quattordici quindici anni noi nell'accademia nazionale di danza si cominciava a fare danza moderna e si faceva solo tecnica graham due ore a settimana quindi quasi nulla e e poi una tecnica molto codificata molto rigida diciamo no e per cui cominciai a cercare andai a studiare con carlo studiavo l'estate con carlo in carson con l'ario exon eh con persone che venivano dalla dalla scuola da Limon insomma cercavo di eh di capire se la danza contemporanea fosse più il mio linguaggio e mi sembrava di sì da queste esperienze che facevo un po' in segreto clandestine e poi a un certo punto eh fortuna è stata che nel 1986 la compagnia di Pina Bausch venne a Roma e fu la prima coproduzione che Pina fece il primo spettacolo dedicato ad una città aprendo poi una serie che 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 si insomma ne ha fatti tantissimi di spettacoli dedicate a varie città nel mondo e e lo spettacolo era Victor e lì rimasi abbastanza folgorata avevo già visto i video della sagra della primavera e mi aveva molto impressionato la sagra della primavera mi aveva veramente scioccato no perché era qualcosa di talmente potente talmente sì sconvolgente no il modo di danzare questo questi danzatori estenuati sporchi di terra tutto era qualcosa di che che diverso da tutto il resto ecco e quando ho visto Victor eh ricordo che rimasi proprio molto impressionata da da questa magia di vedere in scena del delle persone normali come le puoi vedere per strada sull'autobus quindi con dei corpi non da danzatori non dei corpi atletici perfetti tonici tutti no ma corpi molto diversi cioè racchiare alto alto basso basso un po' cicciotto un po' così normale dei corpi delle improvvisamente quando si mettevano a danzare con questi movimenti poi tra l'altro creati da Pina veramente meravigliosi cioè estremamente poetici estremamente espressivi erano fantastici cioè hanno una qualità di movimento fantastico quindi era una magia cioè tu ti rendevi conto la danza era una specie di perla no che 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 ti faceva ti elevava no ancora di più all'interno di questo spettacolo dove i danzatori però parlavano agivano cantavano e quindi mi son detta questa cosa qui è quello che voglio fare la sera dopo riportai i miei genitori a vedere lo spettacolo e dissi papà mamma io me ne vado devo andare in Germania e quindi l'anno dopo ho preso il diploma andai a studiare capì ero chiaramente era chiaro che non potevo aspirare ad entrare nella compagnia uscendo da una scuola dove facevo le punte in 32 fuete sulle punte con il tutto bianco eccetera quindi che dovevo comunque studiare capire questo mondo questa tecnica e chiaramente andare a studiare nella scuola di Essen la Folkermoschule all'epoca addirittura diretta da Pina Bao cioè ci sono stati quattro anni in cui Pina non solo aveva la compagnia Wuppertal ma aveva anche la direzione della scuola e quindi è stato molto bello perché Pina veniva a vedere gli esami veniva a vedere quando facevamo le nostre piccole coreografie era molto presente guardava gli studenti e anche individuava i personaggi che le interessavano per la sua compagnia chiaramente perché diciamo che questa scuola di Essen è sempre stata una specie di alimentazione della compagnia di Wuppertal e il motivo è semplice perché Pina comunque usa un linguaggio usava un linguaggio che si ispirava fortemente alla tradizione della danza espressionista di Kurt Yoss la tecnica Yoss-Leder eccetera e in quella scuola si studiava quella tecnica quindi era come avere dei danzatori che avevano già imparato l'alfabeto di quello no avevano già le basi per poi capire i movimenti di Pina che sembrano semplici ma non lo sono per niente sono molto 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 complicati quindi fatta la scuola eh però non c'era la possibilità di entrare in compagnia non c'era posto e quindi ho lavorato per tre anni con una compagnia a Dusseldorf eh molto interessante eh ho fatto le mie esperienze con gli attori ho preso molti corsi in sono andata almeno quattro volte in Danimarca eh a fare eh corsi e con gli attori di Eugenio Barbo ho conosciuto Eugenio Barbo ho seguito una la fase finale di una creazione eh è stato per me molto importante anche questo momento di di anche lì attirata da uno spettacolo che avevo visto di Eugenio Barbo che mi aveva sconvolto le ceneri di Brecht era uno spettacolo e e quindi eh devo dire era un periodo eh era molto diverso da adesso perché non c'erano tutte queste cose video eccetera quindi quando andavi eh a fare un'audizione si pigliava il treno si andava io presi sto treno andai fino in Danimarca eh scrivevi la lettera ti rispondevano con la a mano cara Cristiana puoi venire in questo periodo assistere alle prove della compagnia vedere a fare questo watcher quindi era questa cosa proprio di non so di andare all'avventura non c'erano tutti questi video che documentassero tu vedevi uno spettacolo ti innamoravi cercavi di capire come andare lì capire come poter avvicinare no questa cosa e quindi ti buttavi andavi lì non sapevi bene che cosa trovavi e però sono state esperienze per me molto molto importanti sia lavoro con questa compagnia eh che poi è stata insomma è diventata una compagnia relativamente famosa in Germania diciamo io sono stata la prima il diciamo il eh il primo gruppo diciamo quello che è iniziato è iniziata la compagnia con me ed altri sei danzatori questa coreografa e questo scenografo e facciano delle cose molto diverse da Pina molto visite molto particolari e e poi dopo eh lavorato con altri coreografi insomma in in Francia e quando finalmente si è liberato un posto nella compagnia di Pina eh sono andata a fare l'audizione anche se lei mi conosceva ho fatto l'audizione come tutti gli altri e e lei mi ha come sempre Pina cioè non è che ti dice sì sì vieni eh mi ha invitato per un mese a Vuppertal a imparare la sagra della primavera dicendomi non lo so se ti farò danzare e poi alla fine come nei film questi film il cliché proprio no ero in ultimissima fila neanche avevo un po' cioè imparavo i movimenti in un angolo poi improvvisamente comincia a ferirsi un primo a cadere un'altra a rompersi il piede un altro e quindi io entro nel gruppo e avanza 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 insomma il giorno dello spettacolo ero in prima fila insomma per dire ero nel gruppo abbastanza per cui alla fine poi dopo questo mese lei mi ha detto che mi prendeva in compagnia ed è cominciato questo lungo viaggio eh con Pina Bausch che è durato ventidue anni di cui ho otto con lei quindi ho fatto ho partecipato a dieci creazioni ho danzato in quasi tutti gli spettacoli del repertorio ho girato tutto il mondo è stata un'esperienza che adesso riesco a mettere a fuoco perché quando sei dentro è una tale centrifuga eh talmente tanto si lavorava tantissimo ma non ci si annoiava mai perché comunque erano delle tournée pazzesche avevamo tantissimi spettacoli durante ogni stagione presentevamo una media di dieci dodici spettacoli che andavano in giro diversi quindi riprese di vecchi spettacoli ogni anno una nuova creazione insomma eh era un una bella centrifuga e e credo che sia stato un chiaramente un momento unico nella mia vita ma nella vita di tutti noi e credo che eravamo anche coscienti che c'era qualcosa di unico perché se no non ci saremmo ammazzati di lavoro come cioè tutti i miei colleghi quello che ci avvicinava era che ci davamo totalmente anima e corpo a questo al lavoro di Pina e e credo che questo è perché sentivamo che questa esperienza era unica che stavamo lavorando con un artista che ce n'è una ogni secolo insomma e e in effetti adesso col senno di poi credo che non è proprio più possibile una cosa come quella che che ha fatto Pina che ha creato Pina no nel mondo di oggi e ed era adesso ripeto col senno di poi mi sembra il paradiso cioè il fatto che lavoravamo in sala prove non c'erano telefoni non c'erano telefonini non il video veniva usato pochissimo solo per filmare le cose che eh che si capiva che era difficile poi di ricordarsene dopo ma insomma scrivevamo facciamo questi quaderni io ho questa biblioteca di quaderni di appunti della delle creazioni e quindi era veramente era un lavoro di tante 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 cioè per una nuova creazione si lavorava quattro mesi insomma tempi inimmaginabili al giorno d'oggi per creare uno spettacolo era uno spettacolo anche di tre ore però comunque tanto tempo tante possibilità e e si andava si lavorava andando a fondo cioè non ci si fermava o premettiamo questo questo quest'altro 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 via veloci eccetera no era proprio un lavoro molto che andava sì c'era il tempo di approfondire ecco le cose e e quindi questo è la mia chiamiamola formazione eh per la risposta ma non mi ricordo più già sì certo eh no è gratta infatti è infatti è una storia molto lunga anche piena quindi chiaramente come dire hai sentito anche tu il bisogno poi di rielaborarla tutta questa storia no tutta anche la tua eh questi anni con con Pina infatti il tuo primo lavoro eh moving with Pina che diciamo che potrebbe essere uno spettacolo che più ti avvicina a quello del all'attrice monologante non è in un certo senso insieme poi ai successivi Jessica e Mia e l'ultimissimo eh behind the light e forse ecco in questo moving with Pina che 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 anche il tuo ringraziamento a questa figura che per te è stata fondamentale e anche forse però lo spettacolo che contiene eh moltissimi eh elementi che poi troveremo anche nei nei tuoi successivi lavori no per esempio mi viene da pensare all'ironia all'auto ironia eh l'assenza di intenti pedagogici il rapporto con il pubblico eh l'elemento della sincerità tu ne parli spesso di questo no il mio spettacolo eh sì allora moving with Pina mh allora la la caratteristica ma essendo una conferenza danzata è ovvio che c'è questo rivolgersi al pubblico no non c'è la la quarta pareccia parlo col pubblico dall'inizio e e questo è già una cosa che per un danzatore non è del tutto banale insomma ci sono pochi poi adesso diciamo che Pina ha aperto la strada al fatto che i danzatori parlino in scena e poi adesso è diventato abbastanza normale che avvenga però insomma quando l'ha fatto lei non era normale per niente e però in movimento in Pina c'è questo elemento però diciamo che non c'è eh l'aspetto pedagogico però comunque è uno spettacolo che vuole eh raccontare e spiegare ma non in maniera dall'alto ma comunque spiegare dall'interno come eh Pina lavorava sul movimento quali no quali cose per lei erano importanti a dove vengono le origini di certi movimenti come ci correggeva sui movimenti e quindi diciamo che ehm ripeto non è pedagogico però è uno spettacolo estremamente informativo cioè chi in la cosa che mi è sempre stata detta è che chi conosceva gli spettacoli di Pina Bausch era impazziva perché capiva un sacco di cose che non diciamo capiva il backstage di molte cose no e quindi era eh un'emozione scoprirlo chi non conosceva gli spettacoli di Pina aveva voglia di vederli perché vedendo Moving with Pina ti veniva voglia di vedere questo e soprattutto è uno spettacolo che secondo me eh ha due la 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 caratteristica della della sincerità sì chiaramente c'è nel senso che quello che racconto sono aneddoti realmente vissuto e che eh la 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 voglia che avevo in quel momento perché ho creato Moving with Pina veramente molto a ridosso della scomparsa di Pina otto mesi dopo la sua morte ed è stato per me uno spettacolo che molto mi è servito molto anche a come dire a rimettere a posto un po' no le ho guardato appunto in questi vecchi quaderni ho cercato di capire come eh poter mettere anche a posto un sacco di cose sbagliate che si dicevano in quel momento su di lei su come lavorava cioè era come che improvvisamente il fatto che lei non c'era più autorizzava tutti a spiegare come lavoravamo però non ci chiedevano a noi lo decidevano loro di spiegare quindi loro parlo giornalisti così critici insomma varie personaggi vari e quindi questa cosa mi nervosiva tantissimo e eh e ho detto ma perché non non dobbiamo raccontarlo noi cioè voglio dire io ho lavorato vent'anni con questa donna in sala prove cioè potrò dire che non era così che non improvvisavamo ma che invece le cose venivano fissate poi presentate poi così cioè quindi volevo mettere un po' di puntini su di lei e però ho cercato di di e anche di far capire che Pina non era una regista solamente ma che era soprattutto una coreografia e soprattutto una danzatrice e che quindi la sua empatia con noi era a livello della danza cioè lei ci guardava con gli occhi di una danzatrice e non con gli occhi di una regista teatrale quindi eh tutto questo volevo raccontarlo e chiaramente però è uno spettacolo che guarda al passato cioè uno spettacolo comunque che in cui racconto di questa persona la mia esperienza con lei e e e quindi è personale però comunque è anche no divulgativo tra virgolette e invece Jessica e me questo è stato il grande step diciamo eh il vero step è stato eh eh Jessica e me perché lì ho veramente tentato di cioè tentato insomma ho cercato di creare un vero e proprio spettacolo in cui c'erano momenti onirici momenti poetici c'erano insomma è un vero spettacolo dove c'è una drammaturgia e dove appunto la drammaturgia è data di da flashback che guardano il mio passato questo percorso molto lontano e e invece questa proiezione no verso il presente cioè chi sono io adesso sono una danzatrice che sta cercando di eh che perché stiamo a fare cioè Jessica e me si pone queste domande perché faccio questo mestiere perché sto in scena eh che cosa vuol dire essere in scena a 45 anni eh cosa si può fare cosa non si può più fare insomma tanti tanti quesiti no si si pone e e quindi è si sentono all'inizio dello spettacolo io eseguo una solo e nel frattempo si sentono i miei pensieri mentre danzo che sono ovviamente non c'entrano niente con quello che sto facendo quindi è come veramente rivelare eh che poi questa è la caratteristica che è un po' nei miei spettacoli continua il backstage del del sì del del lavoro del di fare teatro ecco in generale e inoltre in questo lavoro Jessica e me ti metti anche molto alla prova perché eh collabori con una regista di teatro un video artist della scena punk inglese un light designer che lavorava con Bob Wilson quindi c'è un insieme anche di linguaggi che che vuoi sperimentare infatti mh ricordo mi aveva colpito in una una tua intervista che dicevi il mio percorso è una è sempre in evoluzione c'è questo desiderio sempre di cercare qualcosa di nuovo sì beh io credo che credo che lo facciano un po' tutti questo di cercare eh qualcosa di nuovo quello che penso tu ti riferisci al fatto che ogni creazione che io non ho un metodo che è sempre lo stesso ma che ogni creazione un po' eh seguo delle consuetudine diverse a seconda di di quello che voglio esprimere o del tema che voglio portare in scena ehm questo gruppo è interessante che li hai citati perché questo gruppo della questa mia amica regista teatrale e che lavora in Francia questo light designer questa videomaker sono gli stessi che ho richiamato per behind the light perché avevo pensato ok questo gruppo è stato vincente riprendiamo gli stessi ma non è solo un fatto di vincente ma anche io penso che la la soprattutto quando si fa una solo la scelta dei collaboratori è fondamentale perché tu sei fragilissimo cioè soprattutto una solo autobiografico come Jessica ma anche come behind the light in un altro modo però insomma sono soli dove alla fine si parla di me insomma non è che si parla di qualcosa della guerra della Shoah o del dell'ecologia si parla di me quindi come parlare di sé senza diventare insopportabili egocentrici celebrativi eccetera bisogna usare ironia l'autorionia tantissimo e come parlare di sé e rendere questo universale quindi e portare quindi delle fragilità no cioè non solo dire guardate quanto so brava perché questo sinceramente non interessa a nessuno ma cercare di mostrare qualcosa in maniera non privata ma molto precisa che ha a che fare con quello che qualcosa di di fragile di intimo e di che possa parlare a tutti quanti no che possano il pubblico si possa immedesimare con questo e per per mettersi a nudo non di vestiti ma mettersi veramente a nudo hai bisogno di avere di fronte a te delle persone di cui ti fidi hai bisogno delle persone che siano sensibili che ti anzi persone che ti come spingano ti incoraggino ad andare nei posti dove tu no non non hai il coraggio di andare perché quando si crea la tentazione di tornare nelle abitudini delle cose che già si sono fatte che già da volte neanche te ne accorgi no perché ti senti belli ti ci senti che la sai dominare quella cosa però le cose più interessanti avvengono quando vai dove non sai bene dove vai a finire poi no cioè ben ritorio sconosciuto quindi questi per tre personaggi che io un po' ho scelto anche apposta perché erano tutti completamente stranei alla appina e al mondo del tanz teater avevano tutti delle professionalità e anche dei modi di fare teatro molto molto diversi da pina ma mi interessava molto perché appunto volevo essere sicura di non ricadere neanche non lo so qualcosa che ricordasse il tanz teater di pina no poi nel frattempo ho capito che ho la mia cifra stilistica ma per esempio jessica e me mi sono detta boh cioè mentre creavo era quella la la sfida cioè esisto io come artista e come ho la mia il mio senso di drammaturgico la mia il mio senso l'umorismo eh il mio modo di costruire gli spettacoli la mia estetica no ce l'ho non ce l'ho o ripeto eh sono vittima diciamo involontaria dell'ombra fino a bauce quindi è stato molto importante avere dei collaboratori liberi e assolutamente che venissero da altri mondi infatti a proposito di questo del fatto che la drammaturgia il metodo drammaturgico anche cambia il modo di strutturare lo spettacolo infatti tu hai lavorato anche insieme ad altri danzatori che cosa cambia nel momento in cui sei da sola in scena e poi diventi anche eh autrice eh insieme ad altre persone ma eh cosa cambia cambia un tanto perché comunque hai eh come dire quando lavori da sola eh è molto molto faticoso e e ti devi eh e cioè devi trovare da solo l'energia no? Quando se entri una sala prova e ci sono nove danzatori anche se sei stanca arrivi lì bom vieni no eh proponi una cosa un'altra eccetera e vieni eh l'energia ti arriva e ti viene ricaricata dall'energia dei danzatori questa è una cosa bellissima di lavorare poi io trovo che la categoria dei danzatori siano fantastici cioè tra tra il nel mondo dello spettacolo dal vivo credo che sia la categoria più appassionata più onesta no? Più veramente non so come dire cioè per fare il danzatore devi essere un po' pazzo un po' masochista devi amare veramente l'art perché è talmente faticoso è talmente in grado in grado ci sono talmente pochi soldi cioè veramente sono i veri artisti appassionati di quello che fa cioè devi avere una passione molto molto forte quindi e poi non discutono i danzatori a differenza degli attori cioè sono abituati a gli proponi una cosa e loro ah ok ci provano quindi è molto interessante questo approccio cioè c'è un approccio di dire boh ci si prova senza passare nella cosa corticale sì ma perché ma che significa questo ma che significa quest'altro cioè non lo so perché delle volte tu come ehm la come regista e coreografo non sai hai un'idea ma non la sai diciamo spiegare hai una tua intuizione e se la spieghi la rovini come se la spieghi perdi l'attimo quindi devi avere di fronte delle persone che si buttano punto no e questo è molto 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 bello quindi e e metodologicamente sì insomma di di dipende dal dalle volte io quando ho fatto il duetto con e fury tale che era un duetto con due danze stradici straordinarie lì ehm tendevo a quando vedevo delle cose interessanti tendevo subito a cercare di lavorarle sul momento e a renderle ancora più interessanti a verificarne le possibilità di una di una situazione invece quando ho lavorato con i cinque danzatori ho lavorato un po' di più come come faccio quando sono sola cioè ho accumulato abbastanza materiale prima di iniziare a eh la fase di montaggio a cercare di montare di rivedere le cose eccetera eccetera e e poi sì poi ho lavorato con con la compagnia della Terballetto e lì è stato una corsa contro il tempo perché essendo una compagnia impegnata con tanti progetti avevo molto poco tempo a disposizione e quindi ho sofferto moltissimo e e lì sì lì chiaramente ho proposto io tutte le 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 situazioni le cose e ho portato eh diciamo in quel momento la la cosa che per me è stata un po' una sfida è di non arrivare lì con dei passi fissati poche frasi di movimento ma di cercare di utilizzare il materiale di movimento che loro mi davano in modo da avere delle cioè di di non non usarli come un corpo di ballo che fanno tutti lo stesso linguaggio ma che ognuno aveva il suo modo di muoversi il suo linguaggio la sua identità all'interno dello spettacolo e quindi questa è stata un po' la sfida con questa compagnia mi colpisce molto come in alcuni tuoi lavori cerchi sempre di svelare il meccanismo che c'è dietro alla creazione di uno spettacolo o anche appunto dietro questo mondo che a volte può può essere eh considerato quasi magico no della danza onirico eh quando invece c'è anche molta concretezza eh quindi sto pensando per esempio ehm ai lavoro appunto che hai fatto con i danzatori eh per esempio non sapevamo dove eh lasciarmi dove ti interroghi proprio sulla eh professione del del ballerino del del danzatore eh scusami avevi detto qualcosa? Sì è che che è quello per la terballetto non sapevano dove lasciarmi eh che avevo chiesto eh avevo chiesto ognuno di loro perché avevano cominciato a danzare qual era stato il motivo il diciamo la e uno di questi danzatori bravissimo tra l'altro un danzatore straordinario aveva detto ma i miei genitori eh mi portavano a questa scuola di danza che stava nella stessa strada di casa perché lavoravano tutte e due e non sapevano dove lasciarmi e quindi mi è sembrato bellissima questa cosa cioè che a volte così c'è la casualità o la sì insomma non c'è sempre questa inizio ehm inizio così eroico della della carriera ehm però è così lì mi era piaciuto questo appunto perché sono come dire sono appunto dei danzatori molto mercenari i danzatori di una compagnia come la terballetto nel senso che lavorano con tanti prima c'è stato bigonzetti per tanti anni prima ancora modio insomma nella storia di questa compagnia però a certo punto hanno perso il loro coreografo stanziale che dava l'identità veramente alla compagnia hanno cominciato ad essere una compagnia di di repertorio nel senso che vengono i coreografi montano delle coreografie già preesistenti a volte fanno delle creazioni però continuamente cambiano le persone con cui lavorano e e quindi i danzatori hanno proprio un approccio molto sì molto pratico no alla cosa non possono perdere tempo perché devono proteggere il loro corpo devono diciamo ehm ehm risparmiare le energie no che non non c'è questo darsi fino alla fine fino a nelle prove eh poi in scena sono fantastici e quindi mi piaceva indagare su su cioè perché si ricordano ancora perché hanno cominciato a danzare o perché lo stanno facendo quali sono i motivi che li hanno spinti all'origine a fare questa questa scelta e a proposito di questo mi viene in mente anche un altro eh un altro elemento che mi sembra torni no l'idea dell'individuo danzatore eh come tu stesso dicevi che Pina Bausch era incuriosita dall'individuo danzatore dietro ad ogni danzatore c'è naturalmente una storia una una biografia e quindi c'è questa ricerca della dell'autenticità in un certo senso e mi viene in mente anche un'altra cosa ehm sempre una tua intervista dicevi mi piace molto insegnare anche a delle persone comuni cioè delle persone che siano libere da ogni impostazione quindi anche in questo caso c'è questo tentativo di scardinare un po' tutti i cliché eh della danza anche sì insomma adesso diciamo che i cliché della danza sono stati scardinati da tempo e cioè ci sono tantissimi coreografi italiani e stranieri che lavorano con non professionisti e che fanno lavori sul territorio nelle città per le strade queste cose in piazza queste cose e che vengono dal contemporaneo quindi che utilizzano però questi principi del contemporaneo di queste task no di dare delle degli input muoviti come se fossi eh se la terra brucia poi muoviti come zombie poi ehm sei innamorato e sei felice cioè la gente improvvisa quindi improvvisa trova un un suo modo di eh muoversi delle con degli piccoli gesti che poi vengono magari memorizzati eccetera comunque insomma tutto questo questo tipo di approccio insomma è già molto molto diffuso io per quanto mi riguarda trovo a volte faticoso eh più faticoso lavorare con i danzatori che eh non mollano no? Cioè non non capisci bene eh chi è questa persona perché hanno sono tutti impostati in un certo modo e se tu cerchi di portarli anche a livello di movimento in fuori dalle loro abitudini eh c'è una resistenza fortissima perché vogliono muoversi in quel modo lì che hanno imparato quel modo lì di muoversi invece le persone non so normali sono del carto cioè si buttano e a volte fanno delle cose di una poesia di una bellezza ma nessun danzatore potrebbe immettarsele potrebbe farle no? E c'è una cosa generazionale che trovo impressionante cioè la generazione dei sessantenni settantenni ma sono molto più tenaci creativi e forti delle generazioni giovani di oggi io parlo di questa categoria delle persone normali cioè si buttano ma come dei pazzi cioè veramente sono più forti sono più ehm cioè non hanno paura della fatica ecco le generazioni più giovani si stancano molto velocemente ecco e e poi per il fatto dell'individuo ma è un approccio cioè a me capita spesso di vedere dei video o anche su Instagram no? Quando guardi le cose cioè vedi delle cose incredibili oggi no? A livello tecnico anche questo fatto che l'hip hop la break dance e tutta questa fusione di di tecniche diverse con il contemporaneo ha dato dei frutti meravigliosi cioè delle cose il movimento che non riesce a capire come funziona e che sono al limite della ginnastica artistica talmente sono impressionanti però comunque sono belle sono eh impressionanti ecco impressionanti e però io personalmente personalmente eh rimango stupefatta ma come rimango stupefatta quando vedo delle cose delle cose al circo degli effetti speciali incredibili no? Ma alla fine mi mi impressiona di più eh entrare in contatto con artista che sta in scena e stabilire non so capisci questo cioè credo che nella vita di di ognuno quello che hai visto eh io ho visto tante volte Dario Fo dal vivo capisci cioè stava lì con un maglione nero e basta e per due ore faceva uno spettacolo e tu eri attaccata così con la bocca aperta e sbavavi e stavi lì che non lo non lo mollavi un istante non c'era nulla c'era una luce fissa una persona con un maglione nero che parlava per cui io penso che e che mi ricordo capisci cioè questi le emozioni le risate la sorpresa la cosa cioè non li dimenticherò mai e e e quindi e anche alcune cose di pina che sono delle piccole azioni dei piccoli gesti delle delle scene che non sono delle cose virtuosistiche di 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 movimento ma sono indimenticabili sono intramontabili indimenticabili perché ti raccontano qualcosa che che parla di tutti noi no? Vedere una persona che salta fa il triplo salto mortale nel frattempo fa hip hop e nel frattempo fa non lo so tecnica gram è impressionante però non si è impressionante ma che cosa cioè per farlo diventare struggente deve essere messo in scena in un certo modo no? Però se vedi solo quello per mezz'ora non non ti parla no? Quindi la la cosa che mi interessa è mostrare qualcosa dell'umanità qualcosa che ci parli che racconti qualcosa sugli esseri umani sugli individui quindi questi danzatori che non sono solo dei corpi ma che sono delle persone sono delle persone con delle storie con i loro dolori con le loro incertezze e questa cosa stabilisce subito il legame col pubblico che per me è una cosa preziosissima ecco ecco infatti a proposito del legame con il pubblico che poi vai approfondire sempre di più appunto la relazione il rapporto con il pubblico addirittura gli fai salire sul palco gli chiedi di accenderti una sigaretta eh come come reagiscono loro a queste sollecitazioni come ti relazioni praticamente adesso concordi a fidenza che succede perché anche in questo spettacolo c'è un momento in cui coinvolgo il pubblico non deve non devono salire in scena state tranquilli se qualcuno vede questa intervista non non è una trappola quello che succede non dovete salire in scena ehm ma non lo so io credo che eh ecco cioè ci sono molte cose del lavoro di Pina Bausch che per me sono eh come si può dire tabù nel senso che non non appartengono al mio universo appartengono al suo ma non potrei mai metterle in un mio spettacolo però ecco il rapporto col pubblico la rottura della quarta parete il rivolgersi al pubblico lo scendere nel pubblico il coinvolgere il pubblico in maniera rispettosa delicata eccetera è qualcosa che per me era sempre stato meraviglioso del lavoro di Pina ma aveva una sua una sua motivazione anche nei miei spettacoli non è che lo faccio così gratuitamente ma ha un suo perché in moving with Pina chiedo due volontari di salire su scena perché devo far vedere devo spiegare un principio di movimento ho bisogno di un partner molto molto semplice cioè non devono fare quasi niente però la loro presenza è importante questo eh in moving with Pina funziona perché dopo un'ora e venti di spettacolo dove la gente ti ha visto ti ha conosciuto cioè si fida di te si fida di te e e viene su insomma capisce che può osare questa cosa e in Jessica è mio ok si chiedo di accendermi una sigaretta però a tutta una insomma anche lì viene dal racconto del che c'è all'interno dello spettacolo e credo che sia una cosa molto non so spiegare bene per me è una cosa molto molto bella il pubblico in generale reagisce bene insomma reagisce ehm dove c'è stato un posto dove non erano pietrificati non mi ricordo bene dove ma insomma c'è stato un posto c'è voluto un po' di tempo per far di sciogliere però per esempio ah in Svezia siccome non fuma più nessuno non c'era nessuno che mi accendeva la sigaretta nessuno era un dramma anzi erano proprio scandalizzati che mi accendessi questa sigaretta cioè a un certo punto uno mi ha proprio detto del pubblico ma non si fuma in Svezia è stata una cosa drammaturgicamente grave perché ho detto ho capito però io sono italiana cioè alla fine avevamo la mia assistente per la prima volta abbiamo dovuto preparare che leva questa accendina e se veramente nessuno arrivava lo passava lei insomma però ecco in generale eh e poi mi piace ecco questa è una cosa finalmente perché mi hai fatto una domanda non riuscivo a trovare quello che mi piace del fatto del rapporto col pubblico è che rende ogni spettacolo assolutamente unico e diverso cioè quella sera succede quella cosa no quindi eh mi domandano quella per esempio adesso in behind the light chiedo di se hanno delle domande e ogni ogni data ci sono delle domande diverse alcune molto potenti e quindi mi mi tolgono no il il tappeto sotto i piedi ma mi piace perché comunque sei obbligata a quel punto non hai niente di preparato che ne so cosa mi domanda del pubblico no e quindi anche lì vedono che balbetto che cerco di rispondere che cerco e questo lo sente il pubblico lo sente se è qualcosa è vero oppure se c'è il pubblico soprattutto in jessica in jessica e me ma anche in moving with a man jessica e me in behind the light soprattutto in behind the light che è uno spettacolo ancora più sincero ancora più sono ancora più fragile più esposta che in jessica e me perché almeno jessica e me parlavo del mondo del teatro della la mia scelta della danza mi facevo tutte queste domande su alcuni argomenti invece behind the light parlo proprio della mia vita della mia crisi della mia di questo periodo duro che ho passato e come sono cioè come i miei tentativi di uscirne però in quello spettacolo lì io credo che la gente sente cioè il pubblico sente se tu sei sincera in scena cioè se stai che non è un personaggio cioè non sto interpretando un personaggio sono me stessa e sono quello che dico quello che faccio è vero e questa cosa è molto impressionante per il pubblico cioè molto diciamo emotiva no tocca le corde poi più le donne che gli uomini eh perché i miei spettacoli sono molto amati dalle donne in generale sì infatti in behind the light tra l'altro mi come mi dicevi uno spettacolo in cui tu vai un po in scena senza pelle quindi è molto complicato da diversi di vista no da da affrontare e anche perché giustamente qui l'ironia ancora di più quella che utilizzi normalmente ancora di più forse ti aiuta anche ad alleggerire eh delle tematiche che sono comunque anche molto eh dure no quindi come ci racconti anche eh ecco in chiusura di questa eh di questa intervista eh come nasce in behind light che tra l'altro nasce anche dopo un periodo difficile in generale il periodo del del covid della pandemia eh ecco cosa ci racconti di questo spettacolo ci stiamo per venire a vedere insomma ma eh lo spettacolo nasce da come sempre non da una sola un solo motivo ma da più cose incrociate allora intanto erano un po' di anni che mi chiedevano di diciamo dei partner dei 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 direttori di teatro che amavano il mio lavoro mi diceva ma quando fai il prossimo a solo quando fai un prossimo a solo no perché avevo fatto appunto fino al 2010 Jessica Bain 2014 insomma quindi eh e io mi sono detto ok se lo devo fare lo devo fare adesso perché non è che mi resta molti anni per potermi muovere in scena danzare e quindi un po' c'era questa voglia di fare una solo poi l'esperienza traumatica della pandemia dove io avevo uno spettacolo con cinque danzatori che è stato un macello perché riuscire a coordinare questi cinque danzatori che erano in cinque paesi diversi riuscire a a trovare il modo di riprendere e riallestire lo spettacolo ho perso tutte le date a diverse volte insomma questo l'hanno vissuto tante compagnie ovviamente ed è stato per me molto molto duro come per tutti e purtroppo nel mio caso ho coinciso appunto con dei 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 lutti familiari molto pesanti quindi per me è come dire quei due anni e mezzo della pandemia è stato come il medioevo della mia vita cioè più più scuro cioè a ogni volta che tentavo di rialzare la testa succedeva un'altra catastrofe quindi è stato veramente molto pesante e e avevo voglia quindi ho detto adesso faccio una solo così se viene la terza ondata di pandemia lavoro da sola ma lavoro cioè non devo stare aspettare gli altri quindi c'è stato un pensiero strategico dopo questo trauma e poi e poi avevo voglia di però effettivamente quando ho cominciato le prove ero ridotta uno straccio cioè ero veramente ridotta male sì psicologicamente e fisicamente e quindi ritorniamo al fatto dei collaboratori che mi hanno raccolta con cucchiaino mi hanno detto no ce la facciamo ce la farai ce la farai ed è stato un processo di devo dire creativo molto alla fine è molto bello perché è stato proprio anche liberatorio cioè mano a mano che costruivo lo spettacolo mi rimettevo in piedi dimagrivo mi rimotivavo mi rinforzavo quindi è stato proprio come lo spettacolo mi ha rimesso in piedi e quindi per me è uno spettacolo molto molto importante da questo punto di vista alla fine tale era la paura di fare uno spettacolo pesante angosciante per i temi un po' che alcuni dei temi che vengono trattati che che alla fine è venuto fuori uno spettacolo molto buffo molto divertente molto auto ironico tragicomico e cioè insomma il pubblico ride parecchio no in questi alti e bassi e direi che la cifra di questo spettacolo è appunto questa queste montagne russe cioè il pubblico passa dalla risata che poi gli si ferma in gola perché c'è una cosa invece molto dura poi c'è una cosa di nuovo divertentissima poi c'è una cosa buffa poi c'è una cosa leggera poi c'è una cosa un po' più poetica insomma però il ritmo è molto veloce e dialoghi anche con il video scusami dico di dialoghi anche col video in questo spettacolo diciamo che il video in questo spettacolo ancora più che in jessica ci sono molti più video che in jessica ed è un spettacolo molto colorato nel senso che i video sono molto belli molto colorati molto e sono proprio drammaturgia cioè a volte inizio a parlare di qualcosa e che prosegue nel video cioè io smetto di parlare ma va avanti nel video oppure il video racconta e crea la transizione per la traduce quello che io non riesco a dire a parole ecco a volte oppure lo prolunga oppure lo crea la transizione per la scena dopo però in maniera drammaturgica cioè raccontando quello che manca tra una scena e l'altra quindi è molto importante sono i video in questo in questo spettacolo sì ed è stato molto bella la collaborazione di nuovo con questa mia carissima amica bellissima e sì uno spettacolo a cui tengo moltissimo e che che mi piace veramente fare lo sto ancora scoprendo no perché è nato da un anno quindi sto ancora scoprendo nelle le possibilità grazie cristiana ci aspetta quindi un bellissimo viaggio a teatro con questo spettacolo che davvero non vediamo l'ora di di vedere quindi ecco grazie ancora per per il tuo per questa bella bella chiacchierata insieme noi ci vediamo sicuramente il 9 marzo il 12 il 9 marzo a Concordia il 12 marzo a Fidenza e richiamo anche Roberto Delellis per per salutarci e grazie ancora grazie a te grazie a te grazie a te ecco Roberto ciao Cristiana grazie mille di questa chiacchierata che hai fatto con noi ma figurati è un piacere e poi insomma è un piacere speciale lo sai e anche tornare nel 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 tuo Emilia è certo tornare in Emilia assolutamente che è un po partita con questa avventura assolutamente sì perché non l'abbiamo detto ma Roberto Delellis è stato il primo che ha programmato i miei spettacoli fondamentalmente che ha sì se gli spettacoli non girano possono essere belli però non li vedessi quindi ho voluto per esempio ho voluto questo ciclo sulla narrazione perché io sono un innamorato della narrazione e forse il genere di teatro che alla fine guardandomi alle spalle dopo tanti anni di lavoro mi interessa di più perché comunque il lavoro dei narratori è un lavoro tu hai parlato di sincerità e effettivamente quello che riesce maggiormente a parlare al pubblico e quando c'è stato tutto il problema della pandemia io ho trovato un ho riscoperto la narrazione la che era un po è andata un po fuori moda negli ultimi anni era venuta un po annoia forse e invece ho ritrovato una vitalità una capacità di rapporto col pubblico che in te è evidentissima perché ed è straordinario perché tu danzi di partenza però in realtà i tuoi sono racconti straordinari cioè sei per me sei una narratrice favolosa al pari di Marco Paolini di Marco Bagliani perché hai lo stesso atteggiamento secondo me quindi ho voluto chiamarti in questo ciclo perché secondo me sei sei una di loro in un modo diverso però sei una di quella famiglia lì ecco vieni un po da quella famiglia lì citavi anche la famiglia dove devo orientarmi Roberto perché qua infatti io direi che alla fine tu hai un secondo mestiere che non hai mai ancora scandagliato fino in fondo ma che nel futuro secondo me riuscirai a mettere a frutto sì 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 io spero veramente perché comunque dicevo Annella la se anche io se riguardo indietro no perché chiaramente adesso ci sono delle possibilità non solo tecniche visive eccetera ma anche tecniche nel senso fisiche perché i danzatori hanno una preparazione fisica che non esisteva negli anni 70 80 no e quindi fanno delle cose pazzesche mischiano l'ippopo la break dance col contemporaneo col flamenco con quello quindi è pazzesco però alla fine sì stai 10 minuti con gli occhi di fuori poi passata mezz'ora dice ok che vogliamo no e io invece le cose che mi a parte Pina Bausch che non è certo però di Pina Bausch alla fine cioè io ricordo dei piccoli anche dei piccoli momenti dei piccoli momenti teatrali degli scambi delle cose del e ricordo poi nella mia proprio formazione archetipo diciamo proprio non so delle origini Dario Fo capito Dario Fo la trotenda di Roma con un maglione a collo alto e per due ore e mezza mi ha colpito questa citazione che hai fatto luce fissa scena schifosa cioè proprio allo sfondo attaccato storto cioè luci brutte e lui però che per due ore e mezza tu eri così completa poteva anche stare non lo so in garage no ed eri completamente affascinata perché alla fine è appunto quello che dici tu è quello che si racconta no è la è la la carica umana la l'empatia la il rapporto che tu stabilisci con il pubblico e quindi non lo so c'è questa parte che alla fine mi alla fine vado sempre a finire là insomma nei miei spettacoli perché è un po quello che io amo anche io vedere in scena poi alla fine no cioè conoscere capire chi sono queste persone avere un qualcosa di umano che mi che mi arriva quindi sì insomma ma sono veramente contenta a parte appunto di ritrovarti e con grande piacere di scoprire questi teatri che belli secondo me sì quello di concordia è stato messo a posto da da poco quindi insomma lo inauguriamo con la tua danza il primo balletto che facciamo primo spettacolo di danza ok ho voluto iniziare non dal classico ma dal dal contemporaneo benissimo che è un grande onore un abbraccio cristiana grazie ciao